Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana mi presento io sono Riccardo Zagotrader di investire.biz voglio fare un breve approfondimento di un articolo che ho postato poco tempo fa sul sito quest'oggi comunque quindi è veramente molto recente come articolo riguardante il DAX e la mia prossima operatività insomma volevo spiegarvi un attimo i motivi per cui sto cercando un piccolo short andiamo subito quindi a vedere l'articolo e poi facciamo qualche breve considerazione se poi questo video vi piacerà lasciate un like qui sotto ma soprattutto la cosa che mi preme di più è quella di dirvi comunque che potete tranquillamente commentare al di sotto di questo video in modo tale da insomma avere anche qualche confronto e anche magari qualche idea nuova insomma quindi siamo qui per confrontarci e ora andiamo a vedere l'indice DAX andiamo a vedere come si sta comportando, come l'abbiamo gestito nell'ultimo periodo molto bene devo dire e andiamo subito sui grafici dai eccoci qui, allora in primis questa è la pagina principale di investire.biz per chi non la conoscesse qui trovate tantissimi articoli, veramente molti ringrazio poi tutte le persone che scrivono sul sito potete farlo anche voi, potete commentare gli articoli degli altri insomma c'è veramente tantissimo materiale inoltre vi indico la sessione Academy una sessione veramente ricca di informazione anche per tutti i trader che si stanno affacciando a questo fantastico mondo e che vogliono avere più informazioni qui trovate tutto in maniera assolutamente gratuita partendo dagli strumenti finanziari andando per l'analisi tecnica guardate varie tipologie, il time frame del grafico supporti e resistenze, trend line che cos'è il gap, che cos'è il volume poi se qualcuno è appassionato anche all'analisi fondamentale si può andare a studiare l'analisi fondamentale il bilancio, i metodi di valutazione ma ancora di più poi ci sono anche tutti gli indicatori e i multipli quali PE, ROI, ROI, ROS insomma ne avete di tutto e di IPTA trovate tutto qui sull'Academy ma poi abbiamo anche le varie strategie di trading investimento il trading online pratico rivolto soprattutto ai principianti alle persone che si stanno affacciando in questo momento al trading online guardate qui c'è tutto il margine, la leva vari tipi di ordini stop loss, target price che cos'è il money management importantissimo nella nostra operatività e poi per concludere indicatori oscillatori tutti quanti gli indicatori insomma una sezione veramente veramente importante poi abbiamo anche la sezione guide la sezione stagionalità la sezione certificati e poi qui abbiamo tante altre sezioni soprattutto abbiamo anche la sezione guru monitor qui si possono trovare i profili personali le filosofie di investimento e di portfolio dei più ricchi investitori al mondo passando dal leggendario Warren Buffett a Bill Gates tutti i portfolio di tutti gli investitori più famosi al mondo bene, dopo questa breve presentazione io direi che possiamo andare al mio articolo del DAX eccolo qui la mia operatività sul DAX 0904 2018 quindi quest'oggi primo giorno della settimana qui l'ho scritto molto velocemente il DAX sta salendo con forza e sta raggiungendo il nostro target adesso vi spiego tutto comunque la mia prossima operatività sarà short da 12.400 target 12.000 stop la chiusura sopra 12.480 beh, che dire ora quindi andiamo a vedere come si sta comportando questo DAX ed eccolo qui eccolo qui il nostro DAX allora sicuramente dobbiamo partire da lontano dobbiamo anche su time frame settimanale eccoci qui time frame settimanale che cosa notiamo? che nell'ultimo periodo ci sono stati dei forti storni a partire dalla settimana numero 4 insomma, anzi dalla settimana numero 5 ci sono stati dei forti storni a ribasso che hanno creato dei minimi estremamente importanti che sono proprio i minimi in zona 12.000 11.700 abbiamo questa zona di 300 punti che è molto interessante per gli acquisti e la reputo interessante sempre infatti siamo a long però ci arriviamo dopo a questo beh, che dire allora, uno storno importante c'è stato non è detto che sia finita qui detto questo però noi andiamo a concentrarci su time frame un po' più bassi per capire quali sono i punti di swing quali sono i punti più interessanti per comprare o per vendere un determinato strumento analizzando però anche il comportamento dei prezzi insomma, nell'ultimo periodo cercando di capire come si stanno comportando i compratori nei confronti dei venditori e se ci sarà nel prossimo periodo una direzionalità oppure se continueremo in questo in questo trend laterale perché io dico trend laterale? perché se ci spostiamo su time frame giornaliero possiamo vedere che da quando è avvenuto lo storno questo qui forte eccoci qui sono stati creati dei minimi in area 11.690 e dei massimi in area i massimi di periodo sono 12.600 i minimi 11.690 quindi siamo all'interno di questo che io lo chiamo trading range eccoci qui quindi siamo in lateralità non c'è un trend ben definito perché? perché non abbiamo dei massimi e dei minimi crescenti o decrescenti quindi non c'è un trend siamo in lateralità molto interessante questa conformazione di periodo perché io semplicemente vado a shortare sulla parte alta quindi vado a posizionarmi al ribasso sulla zona superiore e vado a posizionarmi al rialzo sulla zona inferiore quindi i punti che abbiamo citato precedentemente continuerò così fino a che non prenderò lo stop e saprò che quando prenderò lo stop le probabilità che una nuova direzionalità che ci sarà una nuova direzionalità aumentano e di conseguenza si faranno nuovi studi quindi lo stop loss sicuramente prima o dopo avverrà ma insomma abbiamo già fatto molto bene sia sul DAX che sull'ITEL abbiamo sfruttato alla grande questa lateralità e quando prenderemo lo stop comunque se gestito se gestito l'operazione con un buon money management insomma non sarà un problema usciremo da questo periodo di trading range ampiamente in profitto bene andiamo avanti allora e vediamo il prezzo nell'ultimo periodo precisamente io vorrei analizzarlo da febbraio allora da febbraio che cosa è accaduto? ok sì qui storno importante che può anche che può anche dire attenzione forse si può creare un nuovo trend ribassista però ovviamente bisogna studiare l'andamento nei giorni successivi che cosa è successo poi qui? allora ritracciamento fino in zona 12.600 nuovo storno che però non ha dato nuovi minimi non ha dato nuovi minimi però guardate ogni volta che c'è un ritracciamento non si fanno mai nuovi massimi di conseguenza questa è una lateralità che tende più al ribasso che al rialzo non abbiamo chiare informazioni ma comunque questo lo abbiamo visto infatti la prossima resistenza non è più a 12.600 ma si è abbassata a 12.400 continua ad essere importante quella di 12.600 ma quella più vicina in questo momento è quella di 12.400 proprio dove abbiamo il target al rialzo io che cosa ho fatto in questo periodo? semplicemente come detto prima andavo long dalla parte inferiore e short dalla parte superiore l'ultimo long l'abbiamo preso qui guardate ragazzi qui il 23 marzo se non sbaglio o comunque in questi giorni qui siamo entrati long da dove? da 11.870 eccola qui la posizione long da 11.870 con target 12.400 stiamo parlando comunque di un target di 540 punti devo dire un più 4.5% sul DAX veramente un'operazione che ci sta dando buone soddisfazioni ma attenzione perché non siamo ancora arrivati a target abbiamo raggiunto il massimo proprio in area 12.373 quasi e non abbiamo raggiunto il target può cambiare tutto ancora ma la cosa interessante è che è abbastanza chiaro è abbastanza chiaro l'operatività per il prossimo periodo almeno per quanto mi riguarda e andiamo a vederla qual è questa operatività allora dopo il long che venerdì come potete vedere dalla posizione qui venerdì l'abbiamo chiuso sui massimi qui in area 12.300 all'incirca quindi nel senso abbiamo portato a casa parte della posizione e perché insomma eravamo abbastanza contenti e avevamo detto che lasciavamo correre fino a 12.400 che è il target finale a 12.400 però mi dico e beh se chiudo la posizione perché non aprire una posizione a ribasso esatto aprirò una posizione a ribasso sul DAX non tanto perché vedo una negatività sui mercati ma semplicemente perché voglio cogliere un rimbalzo un semplice rimbalzo con target 12.000 quindi guardate vado a mettere il mio ordine poi magari prenderò lo stop perché come detto stiamo continuando a fare il profitto sulla lateralità quando si fa così prima o dopo lo stop si prende però insomma lo proviamo short da scusate facciamo un ok così short da 12.400 eccolo qui target inseriamo un target target 12.000 sono comunque 400 punti eccoci qui non concentratevi tanto sui punti non punti eccetera eccetera concentratevi sul money management cioè se il prezzo va sopra un determinato livello dobbiamo applicare uno stop e questo stop influirà un tot in percentuale sul nostro conto di conseguenza se ho un conto da 1000 il mio stop sarà all'incirca io personalmente uso un 2% di rischio massimo e quindi sarà facciamo un esempio se è il se è il se è il se è il 2% andiamo a vedere sarà il 2% di 1000 euro è 20 euro di 10.200 eccetera eccetera si può rischiare anche un po' di più 2-3% ma insomma mai andare sopra il 5% perché sarebbe un azzardo abbastanza un azzardo troppo pericoloso cioè non mi ritrovo insomma nel rischiare più del 5% poi magari qualcun altro lo fa ma io personalmente uso questo 2-3% quindi qual è lo stop loss però è sicuramente interessante capire qual è lo stop loss allora essendo questa la zona che mi interessa ve la faccio notare la zona che mi interessa è questa perché sono queste le zone che mi piacciono in questo momento perché perché quando il prezzo è arrivato qui in passato il 12 marzo precisamente 2018 e successivamente il 16 marzo si sono create delle candele di pausa barra inversione chiamatele si possiamo chiamarle doji comunque che hanno invertito la direzione dei prezzi e di conseguenza vuol dire che i massimi e i minimi di queste candele sono importanti e voi dite allora si potrebbe già entrare adesso sì però io voglio attendere la zona di 12.400 lo stop beh qui lo stop molto semplicemente se il prezzo mi chiude sopra 12.480 che è questo massimo qui io andrò a chiudere la mia posizione perché perché sicuramente non sicuramente ma è molto probabile che poi si aprano spazi ulteriori fino ai prossimi massimi che sono in area 12.630 questi massimi qui non voglio lasciare così tanto spazio staremo poi lì a vedere se sarà il caso di shortare o meno attenzione però perché poi arrivano nuove resistenze in area 12.850 sicuramente questa è la resistenza più importante di questo periodo molto molto importante questa zona anche a livello volumetrico ma non solo bene quindi io direi che penso di aver spiegato tutto abbastanza nel dettaglio quindi short a 12.400 il mio stop sarà la chiusura di prezzo di sopra di 12.480 target 12.000 resto comunque andando a vedere il grafico da lontano resto comunque palesemente rialzista sul DAX almeno che fino a che insomma il prezzo non romperà i minimi in area 11.690 allora da lì procederò con nuovi studi ribassisti perché potrebbero appresi degli spazi non indifferenti almeno fino in area 11.200 barra 11.000 però per ora rimango positivo perché questi minimi stanno tenendo potremo fare moltissime altre considerazioni potremo fare tante considerazioni sugli indici americani si può andare a vedere anche il MIB che sta per rompere la zona di 23.000 vedremo oggi se la zona di 23.000 sarà rotta perché se essa verrà rotta si potrebbero aprire nuovi spazi rialzista almeno fino alla zona storica di 24.000 molto importante ma di questo magari ne parleremo in un altro articolo in un altro video insomma in un altro aggiornamento di questo tipo beh io devo dire che per oggi ho concluso io vi ringrazio molto spero che vi sia piaciuto questo video lasciate un like commentate soprattutto di sotto sempre di questo video se avete anche voi qualche idea in più perché noi siamo qui per confrontarci io vi invito questa sera al webinar del lunedì evento gratuito per tutti quanti eccolo qui webinar del lunedì potete iscrivervi tranquillamente da qui mettete i vostri dati vi iscrivete e alle 18 tutti connessi perché sarà un webinar veramente molto interessante io vi ringrazio con questo vi saluto auguro una buona giornata e un buon trading a tutti